ciao amici di effetto for fall adventure e benvenuti alla quarta puntata oggi mi trovo a villeneuve e non è che siamo qua ad innaffiare i fiumi anzi oggi li navigheremo proprio come facendo rafting muta indossata salvagente pronto giacca d'acqua mi sento molto sexy venite con me in questa fantastica discesa in rafting a 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 bellissima discesa sulla a a a a a a a a a gommoni è stata un'esperienza fantastica l'adrenalina scorreva a mille in mezzo alle rapide consiglio vivamente a tutti quanti di provare almeno una volta una discesa in rafting ci vediamo alla prossima avventura con effetto farfalla a 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